Sono stati giorni di preghiera e di condivisione in occasione della festa della conversione di San Paolo nella parrocchia dedicata al Santo. Sono stati coinvolti i giovani del catechismo durante il triduo di preparazione, ma anche le coppie che si sono sposate nel corso del 2022 e rinnovato le promesse matrimoniali, e i genitori insieme ai bambini e bambine che sono stati battezzati l'anno scorso. E tra la celebrazione della Santa Messa e un po' di musica, mercoledì 25 gennaio è stata organizzata anche una piccola gara di torte. Così come ci ha raccontato padre Leandro Giugno prima dell'inizio dei festeggiamenti. In realtà per noi è duplice la festa per San Paolo, perché oggi solennizziamo la conversione di San Paolo, si ricorda la conversione, cioè San Paolo che da persecutore dei cristiani anche lui diventa un cristiano e un apostolo, addirittura dove porterà il Vangelo in tante parti del mondo. E quindi la nostra comunità è in festa. L'altra festa poi è il 29 giugno, quando proprio celebriamo la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Ecco anche oggi per noi però è festa, infatti la nostra comunità parrocchiale un po' si è mobilitata, ci siamo preparati con un triduo di preghiera, di preparazione al giorno della festa, e ogni sera abbiamo invitato i bambini battezzati durante l'anno, le famiglie della parrocchia che hanno rinnovato le promesse matrimoniali e anche i ragazzi che quest'anno hanno ricevuto il sacramento della cresima e della prima comunione. Questa sera adesso ci sarà la messa solenne e poi andremo nel salone dove ci sarà una gara di torte, e anche una grande torta l'abbiamo preparata noi come parrocchia, ecco per vivere un momento di fraternità, di amicizia. Ecco è bello che i fratelli stiano insieme.